Oggi il Consiglio Comunale ha una comunicazione riguardante la possibile chiusura dell'Auditorium FLOG. L'Auditorium FLOG è un luogo di cultura inestimabile, di patrimonio culturale e sociale aggregativo della città. Un luogo che è fondamentale per il nostro patrimonio di musicisti e di comparto di produzione della musica. Un luogo che necessita di un sostegno e di una valorizzazione. È importante l'azione già intrapresa dal nostro sindaco di vicinanza alla FLOG che incontrerà proprio nei prossimi giorni. Questo vuol dire quanto anche per la nostra amministrazione è importante e fondamentale stare vicino a dei luoghi come l'Auditorium FLOG. L'Auditorium FLOG a questo punto la sua crisi testimonia quanto il comparto musica di produzione e concertistica sta subendo un aggravio della situazione post-pandemica. Questo l'ho portato più volte in Consiglio Comunale e di quanto ci sia bisogno oggi di sostegno a tutto il comparto musica. dalla parte del governo ma per quello che può fare anche la nostra amministrazione comunale. Auspito veramente quindi una vicinanza totale a tutto quello che è forma musica dal vivo fiorentino.